prodotti finiti usati in questo mese di aprile allora ho finito dopo tanto tanto tempo perché l'estetista in casa la faccio da sola è la ceretta a caldo della vet io questa la compro una volta all'anno perché depilo linguine con questa va messa nel forno a microonde c'è scritto 40 secondi poi c'è una palettina che vi indica se troppo calda o non va bene delle strisce all'interno è una zuzzeria unica e la uso solo nel linguine nel resto del corpo uso il silk pill e sotto le braccia uso la lametta ricordiamoci che le braccia sotto le braccia abbiamo ghiandole ed è meglio non fare né ceretta né silk pill comunque un prodotto che prendo sempre sono andata lì per coppa a fare la spesa non l'ho più trovata ma ho trovato questa qua strep sugaring cera freddo allo zucchero che se non andavo a leggere sopra che era la stessa cosa perché anche questa va messa nel forno a microonde insomma è la stessa cosa ma non è più vet insomma vabbè come vedete dentro ci sono le palettine la palettina gli insert la cera è molto carina e poi le strisce vabbè non l'ho ancora provata ma penso che sia la stessa zuppa e pan bagnato si dice va bene poi qua c'è un profumo che avete già visto che è finito chantilly di dana ha finito e questa boccetta la metterò in cantina perché io non le butto mai meraviglioso profumo che ho riacquistato perché è semplicemente meraviglioso ho finito questa e ne ho un'altra di scorta perché questa è la dulcius crema corpo al latte d'asina di terre dei papi che prendo su neos 1911 allora questa è favolosa e io vi posso dire che usata costantemente rende la pelle più tonica più turgida ha un odore favoloso che io non ve lo so spiegare perché un mix di latte è un profumo latte o neutro ma profuma è ricca è favolosa io ne ho già una di là aperta io l'alterno con altre creme cioè le alterno con quelle profumate ma questa qui è curativa curativa per la pelle è il barattolo è bellissimo non so per il momento lo tengo non lo butto perché magari mi serve per altre cose però io una crema corpo che vi consiglio e ho finito anche la sua sorellina che questa qui è la lomentium burro nutriente al latte d'asina sempre di terre dei papi questo qui sarebbe questo che ce l'ho qui e come vedete ne ho un'altra di scorta questa è una crema molto ricca ma dalla facile penetrabilità assorbimento la uso per seno collo decolleté è il top infatti io l'ho riacquistata sono favolose io dirlo cioè non è che voglio sponsorizzare perché io le pago queste cose quindi non sponsorizzo proprio niente però per me sono il top il top sono davvero contenta di avere conosciuto questo marchio poi ho finito e mi è piaciuto il demaquant occhi intense di aven questo struccante occhi è molto buono è l'intense è il bifasico io mi sono messa a utilizzarlo così lo shaker o lo metto sui dischetti di cotone poi ne prendo un pochettino e lo massaggio sulle ciglia perché comunque io avevo usando i mascara waterproof non posso sciogliere il mascara con l'acqua perché waterproof però con questo qua con questi questa tipologia di struccanti bifasici riesco bene a sciogliere un po i grumi del mascara waterproof poi con i dischetti di cotone vado a togliere tutto è un buon buon prodotto non è non escludo di riacquistarlo perché mi sono trovata bene avendo poi è un prodotto ipoallergenico ed effettivamente non brucia gli occhi a me non ha bruciato gli occhi a perché poi è tutto molto soggettivo comunque mi è piaciuto qua abbiamo io di queste ne faccio andare veramente tante poi ve ne tengo una da farvi vedere sono le multiuso igienizzanti cop sono salvietine che costano 99 centesimi che quando vado a fare la spesa lì per cop faccio un po di scorta perché in borsa tengo sempre un pacchettino di queste sono leggermente profumate estratto di timo e arancio sono testate dermatologicamente giusto per igienizzare un pochino le mani ma sappiamo benissimo che è un palliativo io se non ho acqua e sapone mi sento un po poco pulita però in questo periodo è bene usare queste salviette ma io le ho sempre comunque tenute in borsa le salviettine così perché sono sempre utili possono sempre servire ho finito a terma ex omega control pelle secca tendenza atopica è un olio lavante io questo qua l'avevo preso su forma e perché aveva un prezzo ottimo è un olio lavante che steso sul corpo fa una leggerissima schiuma lattea a me è piaciuto tanto soprattutto la profumazione una profumazione veramente buona di pulito di crema nivea e sì per la pelle secca è fantastico l'unica cosa è io quando l'ho ordinato non guardo ma cioè penso sempre che mi arrivino dei bulacchi di roba ma in realtà 200 ml piccolino comunque mi è piaciuto è improbabile che lo riacquisti ma c'ho una voglia di provare tanti di quei bagno schiuma che chissà quando lo riacquisterò ecco allora e ho anche finito questo della roche posè li piccar gel lavante questo qui me l'aveva mandato in omaggio notino che non manda mai niente ma avevo acquistato tre prodotti della linea la roche posè il retinolo viso retinolo occhi e basta due vabbè comunque in omaggio c'era questo gel lavante e questo non mi è piaciuto tanto non mi è piaciuta tanto la profumazione questo faceva poca schiuma però una profumazione un po maschile marina e non mi è piaciuta tanto però la pelle la lasciava morbida comunque un prodotto di farmacia un prodotto che non dà problemi però non mi è piaciuto tanto ho finito questo di nars che è la tinted smooch proof eye shadow base la base occhi per l'ombretto bello un bel prodotto che andava a cancellare un pochino le venuzze una base buona come tanto però ho finito questa cipria che me l'aveva mandata simona simona viola puro ed era la cipria credo di sa di violetta quindi era gerlaine chanel no era gerlaine bella comunque mi è piaciuta tanto leggermente rosata ma sul viso non si vedeva restava trasparente l'ho finita mi è piaciuta veramente tanto perché non mi seccava il viso non mi segnava le rughette mi è piaciuta poi ho finito ho finito questa maschera viso di eisenberg che era la maschera tensor remodelant allora mai questa maschera mi è piaciuta tanto madonna mia per farvi vedere una cosa questa qui però questa qui vedete davvero dei bei risultati sul viso ma se la usate come dice il brand cioè tutti i giorni almeno cinque dieci minuti e usata due volte la settimana per 15 minuti secondo me non serve a una ciuffola ma usata tutti i giorni cinque dieci dieci minuti tutti i giorni vedete veramente la pelle distesa le rughe distese è carina bella buona però al momento non l'acquisto perché costa un rene e ci sono prodotti che secondo me funzionano molto meglio allora ho finito questo burro labbra lanolip al cocco l'avevo preso su look fantastic buono buono il sapore buona la sensazione ma se lo mettete di notte al mattino le labbra non vivono di rendita per vivere di rendita vince sempre lui vince sempre claren hidra essenzial per le labbra è il mio top però mi è piaciuto mi è piaciuto perché sapeva di cocco ho finito questo bagno schiuma di molton brown che mi avevano dato da neos rosa absolute questo se voi avete portrait of the lady come profumo è il vostro bagno schiuma perché questo sa di portrait of the lady frederick mann vi ripeto il nome rose absolute poi ho finito questo correttore di la mask che io avevo nella colorazione 1.2 l2 scusate mi piace mi piace sempre un bellissimo correttore ho finito una matita occhi exagerate della rimmel che è la mia preferita nera ho finito una matita marrone di chicco la 03 che mi piace sempre tanto e ho finito un campione di questo dentifricio che mi ha mandato neos che è il canadian dental cream number one mi è piaciuto un buon dentifricio che lasciava un buon sapore di spezie menta e spezie bene i miei finiti sono questi spero che vi sia piaciuta questa recensione di finiti vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona vita a tutti grazie